Dopo la vittoria terapeutica con Brescia, la VL domenica alle 19 è attesa nella tana della capolista Virtus Bologna, in quel palazzetto in cui la squadra pesarese non vince dal lontano 2008. E chissà che l'amuleto Austin Day non funzioni anche a casa delle Vunere. Questo uno dei tanti temi sviscerati giovedì sera dal ritrovato Austin, che è stato ospite degli studi di Rossini TV nel consueto appuntamento in diretta di Insieme a Canestro, condotto da Marco Cadeddu. È una trasferta vicina e invito i tifosi a seguirci portando il loro calore. È un'esperienza che non vedo l'ora di tornare a vivere, perché so cosa significhi giocare partite del genere e so cosa significhi affrontare giocatori come Teodosic o Akhet. Dunque chi può, venga a sostenerci dal vivo. Bologna e Pesaro sono due realtà che hanno fatto la storia di questo campionato e sarà una bella emozione giocare contro la Virtus. Sicuramente domenica proveremo a dare tutto quello che abbiamo per dire la nostra e regalarci delle belle soddisfazioni. Mettendo al bando ogni diplomazia o scaramanzia di rito, ad Insieme a Canestro Austin ha inondato di fiducia a questo finale di stagione per la Carpegna Prosciutto Basket. Prima di chiudere, spazio ai pronostici. Tutte e due vi voglio, tutte e due. Campionato, Eurolega, NBA. Cominciamo con Austin. Campionato. No, no, in Italia. Ok, la WL e vincere lo scudetto per Austin. Nei play-off c'è la possibilità di vincere per tutti, soprattutto per chi ci crede davvero. E quindi io credo che arrivando ai play-off possiamo crescere ulteriormente come livello delle prestazioni e dire la nostra. Tutto è una questione di fiducia e di sensazioni. E quindi se non hai quella fiducia giusta per approcciare le partite dei play-off è inutile sperare di vincerle. Invece con la confidenza giusta puoi riuscirci. Possiamo lottare per il campionato perché tutte le volte che sono arrivato ai play-off me la sono giocata fino alla fine. Il presente dice attenzione massima fra finale di campionato e conquista della post-season. Poi si potrà ragionare su un'eventuale permanenza alla WL anche nel 2023-2024. Mancano sette partite alla fine. Concentriamoci su quelle perché dobbiamo andare ai play-off e andarci per dire la nostra. Poi per l'anno prossimo vedremo. Di sicuro non mancano i motivi affettivi per pensare di vedere ancora Dei in bianco-rosso. Pesaro è una città che è parte di me ed è la storia della mia famiglia. Sicuramente mi piacerebbe molto alla fine della mia carriera fermarmi a vivere qui. Perché non cercare di cercare la mia carriera?